Taiwan come l'Ucraina, affari interni, roba nostra, nessuno si intrometta. Puntuale e prevedibile è arrivato il commento russo alla questione che più divide Cina e Stati Uniti. Taiwan, o meglio, la visita che la speaker della Camera, Pelosi, ha intenzione di fare nell'isola durante il viaggio in Asia che inizia oggi. Non abbiamo alcun problema a difendere il principio di sovranità della Cina e lavoriamo partendo dal presupposto che non si verifichino irritanti provocazioni che possono aggravare la situazione, dice il ministro degli esteri russo Lavrov, commentando la telefonata di ieri tra Xi Jinping e Biden, il cui piatto forte è stata la questione dell'isola cinese dove nel 1949 si rifugiarono i nazionalisti sconfitti dai comunisti e che il governo di Pechino considera una provincia ribelle, da riconquistare con le buone o le cattive, un po' come è successo a Hong Kong. La Pelosi del Partito Democratico come Biden è sempre stata molto critica con il regime di Pechino sui diritti umani, fin da quando, nel 1991, giovane deputata del Congresso, srotolò a piazza Tiananmen uno striscione, a coloro che morirono per la democrazia in Cina, chiaro riferimento al massacro di due anni prima. Adesso però la Casa Bianca vuole convincerla a rinunciare a una visita che sarebbe una provocazione eccessiva. Chi gioca col fuoco si brucia, avverte Xi Jinping, e gli stessi abitanti di Taipei sono perplessi. Loro, il fiato del dragone, ce l'hanno sul collo tutti i giorni.